Cala il fatturato, scende la produzione, gli impianti vengono utilizzati al 50% e la domanda interna continua a cadere. I dati del primo semestre 2013, diffusi oggi da un'industria como, danno ancora misura di una provincia in forte crisi. Soffrono meno le grandi industrie, strutturate e con molti clienti esteri, mentre le piccole aziende artigiane fanno registrare dati ancora più drammatici. Da cinque anni ormai le imprese comasche fanno i conti con un quadro economico in costante peggioramento, anche se, aggiunge un'industria, deboli segnali positivi fanno pensare alla fine della crisi prolungata. Gli indicatori principali però continuano a presentare un segno negativo, in provincia di Como la domanda per il primo semestre del 2013 evidenzia una contrazione dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 2% rispetto al secondo semestre del 2012. A farne le spese sono soprattutto le piccole aziende che non hanno rapporti commerciali con l'estero. Le aziende medio-grandi dichiarano infatti un calo minimale rispetto al periodo precedente, mentre le imprese artigiane o comunque di piccole dimensioni riportano una caduta di oltre 2 punti percentuali, meno 2,2%. Anche il calo dell'attività produttiva è differente a seconda delle dimensioni industriali, meno 5% per aziende piccole e meno 0,6% per aziende grandi. In entrambi i casi gli impianti sono comunque sottoutilizzati, 48% per i piccoli e 62% per le grandi industrie, dati che, aggiunge un'industria, rendono necessario il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. Continua a calare anche il fatturato, meno 2,5% rispetto ai primi sei mesi del 2012 e meno 2,6% rispetto al periodo luglio-dicembre 2012. Anche in questo caso le aziende di piccole dimensioni soffrono di più. Caute, infine, le previsioni sulle vendite dei prossimi sei mesi. Le imprese prevedono un incremento su base semestrale dell'1,2%. Pur dopo 5 anni di recessione, noi imprenditori dobbiamo sforzarci di vedere il bicchiere mezzo pieno, è il commento di Francesco Verga, presidente di un'industria como, e i dati di questa indagine ci offrono finalmente un piccolo, debolissimo spiraglio nell'indicarci che per il 2014 è previsto un breve aumento o quantomeno la fine della caduta del PIL. Certo, conclude Verga, non possiamo ignorare che la domanda nei primi sei mesi del 2013 ha subito un'ulteriore contrazione e che le aziende più piccole fanno ancora molta fatica. Il segnale positivo continua però ad arrivare dalle imprese medio-grandi con forte presenza all'estero. Da loro dovrà ripartire la ripresa.